Buonasera C'è anche Gianni? Ciao Gianni Beh, questo spettacolo sarebbe stato meglio a non farlo, diciamo la verità Però dal momento che siamo qui diamo anche il segno dell'appartenenza Io prima parlavo con delle persone, intanto sistemo le spie, cioè le solite cose Lui è Maurizio Tirelli, eh? Io sono realmente colpito personalmente perché quella zona Io l'ho mitragliata di concerti, di spettacoli, di ricordi Al Riverside, di Casella, di Cavalcore Noi suonavamo con una band che si chiamava Super Circus E il DJ era Vasco E mi hanno detto che il locale è crepato Al Big di Cento abbiamo fatto migliaia di trattenimenti Con persone che ancora adesso a distanza di 30-40 anni mi dicono Sai quando tu suonavi con la musica lì? Io ho conosciuto la mia ragazza, poi ci siamo fidanzati, poi ci siamo sposati E adesso siamo separati Non vi dico San Felice Sant'Agostino Ho fatto decine di tornei calcistici Insomma, Cento, il Carnevale È un qualcosa proprio... Il Teatro Borgatti Che pare che sia venuto giù parte del soffitto Mirandola, la bussola di Mirandola, il Jeans Vedo che sono anche molti giovani Probabilmente non sanno che quello che sto dicendo fa parte veramente di una cartolina della mia vita E quindi essere qui questa sera insieme a tanti artisti così importanti Con la radice piantata solidamente in questa regione miracolosa Dà il segno anche della capacità di questi artisti di unirsi Di essere qui per qualche cosa in cui magari credono E poi sono sicuro che c'è anche il sindaco qua O magari l'assessore Non ci sono C'è qualcuno? No, ma appunto perché noi siamo artisti locali E quindi godiamo appunto di questo favore Se vuoi fare un applauso, fallo pure Perché se hai partito così Non è una cosa polemica È che Quando ci chiamano ci siamo Perché noi amiamo veramente questa terra E la prima canzone che ho scritto in assoluto È dedicata a un tizio che abita a Renazzo Che è proprio di vicino Sant'Agostino Era uno che veniva nelle discoteche Era molto più sfacciato di noi Aveva quella spocchia, sai, tipica Dei dragger, dei blagger Di allora, dei teddy boys Noi invece eravamo timidoni Anche sul palco eravamo dei timidi Quando si avvicinava una ragazza che mi piaceva Lei diceva Io mi chiamo Luisa e te? Io no E allora Pensando a lui Che ho sentito per telefono in questi giorni Mi sembra che sia carino Cantare questa canzone Che non c'entra niente con quello che è successo Ma chi se ne frega È bello, insomma Mi piacciono i tuoi blue jeans La tua camicia e il tuo gilet Che non c'entra niente con quello che è successo Che non c'entra niente con quello che è successo Dove che non c'entra niente con quello che è successo Che non c'entra niente con il tuo gilet del sky che sembra proprio bello e vero, di fantastici Gigi, di lonely Gigi, posso insegnare con te? No, di trocine, di ancora un ragazzo. Gigi, di fantastica, ci sono del formidale, di forte, giù da scambia, ho le tre sire, con chi tu ti fai venire spiritus con te? Non so, ma che razza di ignorante, loro due dicono, te con una classe, cosa ci avete da dire? Ci fa schifo la vita voi? Con una vows che John Wayne al polo andare a spazzare la montagnola, in com'è un surabile Gigi, di forti Gigi, fumando in San Puget al muro, no, di trocine, tocca a voi! Sei affascinante Gigi, perché te non ci dici mica permetti un ballo o tot caslioline da spometti e chietati senza vocezi? Te ti metti contro il muro e spetti? Oppure senza su una mossa a te li un oggi. E le ragazzole gli arriven tot quanti che perdono in calamità, di fantastici jeans, di lonic jeans, andando a bovere un vischio insieme, no? No di troppo cine e ancora un ragazzo. Anche se io è della gente che gli dici peste di corna a te, io preoccupare Gigi. Ti fanno tasti che ci sono formidabili perché a me so che ti tieni anche modesti, perché a me guarda, a me se fossi in te, se a me fossi in te, a cagare in testa a tutti. Ma a te tutta l'olga dè, bravo Gigi, complimenti Gigi, a sta con te Gigi, ti è un fenomeno Gigi. Gigi è un fenomeno Gigi, ti è un fenomeno Gigi. Gigi è un fenomeno Gigi, ti è un fenomeno Gigi, un fenomeno Gigi, Grazie per la visione!